Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePah17 e oggi siamo tornati su Splatoon Per un nuovo episodio della Splatoon Challenge Ok ragazzi prima di iniziare però vorrei scusarmi se non vi ho pubblicato più episodi di questa serie Adesso cercherò di rimediare Vorrei solo annunciarvi ragazzi che di questa serie vi porterò però solo due episodi a settimana Perché purtroppo abbiamo tante serie da portare avanti e non vorrei lasciarne indietro nessuna Prima di iniziare oltre a questa piccola premessa Vorrei farvi vedere dietro di me il nuovo tabellone del nuovo Splat Festival Che si terrà da sabato 19 settembre alle ore 7 fino a domenica 20 settembre alle ore 7 Potete scegliere tra stare nella squadra della mia camera disordinata quindi la squadra Chaos E la mia camera ordinata la squadra la mia camera ordinata ordine Fatemi sapere ragazzi sotto nei commenti in quale squadra vi schiererete Io sarei più propenso a votare per la squadra Chaos Dato che mi rispecchio abbastanza bene Comunque fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Adesso ragazzi vorrei passare alla sfida di oggi che me la pone MorteYT E praticamente mi chiede di splattare in una partita zona Splat con il cecchino con il mirino ragazzi Tutti i giocatori che cercheranno di colorare le due zone Splat Adesso vediamo poi in che mappe andremo a giocare Mi sembra Cime Sogliolose e Porto Polpo se non mi sbaglio Vado a prepararmi ragazzi e ci vediamo nella prima partita di oggi Ricordatevi che ne farò tre Ok ragazzi eccoci qua nella prima partita di oggi MorteYT ma praticamente detto di lasciar perdere le zone Splat E di andare a splattare solo i miei nemici Quindi ragazzi cercherò di portare a termine la missione Sarà dura ma ce la possiamo fare Ok Allora fatemi vedere dove è la zona Splat Ok è qua Aspettiamo i nemici Questa partita qua dovrò camperare un attimo Eccolo là eccolo là No l'ho mancato Caspita l'ho mancato Potevo già prenderne uno ragazzi L'ho mancato di brutto Ok torniamo all'attacco Guardate vado a ficcarmi qua Intanto abbiamo già conquistato tutte le zone Splat Eccolo 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 E che caspita era troppo vicino Non potevo più fare niente Avevo Tex vicinissimo Ok guardate E' meglio se passo di qua Perché devo mettermi in una posizione Dove posso praticamente colpire i miei nemici Senza farmi vedere C'è qualcuno là in cima Forse Proviamo a lanciare una bomba Ok Ce n'è uno lì Ce n'è uno lì Dove sei? Ah è morto Ok niente da fare Eeeh Qui non c'è nessuno No è alle spalle Caspita mi hanno colpito alle spalle Sempre Tex Sempre lui Non è facile ragazzi questa sfida Non è veramente facile Ok speriamo non conquistino le zone Splat Velocemente Perché se no E' tutto da rifare Allora guardate Passiamo di qua Andiamo su Andiamo su Andiamo su Ok hanno splattato Grandi Grandi hanno utilizzato Allora io mi nascondo un attimo Dove caspita sono i miei nemici Come uno va No l'ho mancato No è scappato via ragazzi È scappato via Ok Allora diamo una colorata qua Scusate no Non devo concentrarmi Sulle zone Splat Devo splattare i miei nemici Che però non vedo Non so dove siano ragazzi Non so dove siano Magari di qua Non li vedo ragazzi Non li vedo per niente Eccolo Eccolo Dov'è Ok Questo qua mi ha splattato Senza farmi Neanche Senza darmi neanche il tempo Di girarmi Ok Andiamo veloci Siamo in svantaggio Siamo in svantaggio Però non importa Dobbiamo concentrarci Sui nostri nemici È durissima ragazzi È veramente dura Ok no Quello lì è un mio compagno di squadra Ah no È un nemico Dove sei? No Vabbè Sono riuscito a utilizzare Il tintofono però Ho usato il tintofono comunque È veramente dura È veramente dura Ok Abbiamo un po' di punti da recuperare Ma non importa Speriamo che i miei compagni di squadra Che senza di me Ce la facciano Oh Finalmente ne ho preso uno ragazzi Non l'ho preso proprio Utilizzando il mirino Però L'ho preso Meno male Ok Dove sono? Io mi nascondo Mi nascondo Eccolo Preso! Mamma mia che colpo ragazzi Questo qui è un gran Un gran colpo Questo qui che caspita è? Ah è una lampada Ok Proviamo ad andar di qua Proviamo ad andar di qua C'è qualcuno qua No Non c'è nessuno Ok abbiamo conquistato Tutte le zone splat Non arriva nessuno di qua Aspettate che coloro per salire Allora faccio tutto il giro Perché sono tutti qua sopra Sono tutti qua sopra Qui c'è un po' una marmellata di colori Ok Qualcuno che sta arrivando là Ok è stato ucciso dai miei compagni di squadra Uno lì Ok Ok Dov'è? Eccolo E' scappato via però No Eeeh caspita Non ho avuto neanche il tempo di dire ciao ciao Si è vendicato Ok ragazzi La prima sfida La terminiamo così Ne ho colpiti solo due Però è veramente dura È veramente dura Comunque almeno due le ho presi Eravamo due cecchini in campo Due cecchini No ne ho presi tre ragazzi Ne ho presi tre Ah no però uno è stato preso col tintofono Quindi niente da fare Ok Non importa Non importa Non importa Perfetto Abbiamo comunque guadagnato punti esperienza e soldi Passiamo alla prossima partita di oggi Ok ragazzi Seconda partita di oggi Stavolta cambiamo mappa Andiamo nel porto polpo Anche qua dovrò cercare di splattare Solo i miei nemici Senza colorare le zone splat Non sarà facile però Dobbiamo farcela Ok Ok Sospettiamo che arrivino Arriveranno di sicuro Li vedo Li vedo Li vedo Vieni Ah è scappato Vieni qua Vieni qua Dai ragazzi che lo prendo Dai Dai Ok non arriva No Si sono spostati E caspita Avevano fatto il giro Avevano fatto il giro Non me ne sono accorto Ok Allora Guardate che roba Passiamo di qua Perfetto Devo tracciare tutta la strada Però Perfetto Ok Eccolo Aspettate che finisce la bolla Vieni qua Ok no L'hanno ucciso i miei compagni di squadra Eccolo la Uno L'ho visto Dov'è Eccolo No via 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 Le apc bombe E che caspita Eh avevano visto che stavo camperando lì E mi hanno splattato Ok Torniamo dove eravamo prima I miei compagni di squadra devono sbrigarsi Perché stanno guadagnando terreno Ok Scusate ho fermato solo il timer Tanto per avere Ancora tempo Allora torniamo giù però Perché se no Non mi splatto neanche uno Dov'è caspita sono Dov'è caspita sono Dov'è caspita sono Dov'è caspita sono Non ne vedo neanche uno ragazzi Alle mie spalle Alle mie spalle Vieni Vieni dai Eccolo Ok l'ho preso Sono morto però L'ho preso ragazzi eh Questa qui me la dovete Contare come Uccisione Perché sono riuscito A prenderlo Ok Tanto i miei compagni di squadra Hanno conquistato tutte le zone Splat E sopra è tutto nostro Va bene qua Non arrivano più per il momento Ok no mi ha ucciso Pensare che l'avevo pure visto arrivare Ok questi ragazzi asiatici Veramente sono fortissimi Ok Andiamo veloci come il vento Andiamo veloci come il vento Eccolo Preso Eh non l'ho mancato però L'ho mancato Non ci credo Mi ha preso lui ragazzi Con lo sweeper cm Ok niente da fare Mancano due minuti alla fine Eccolo Dove sei E' qui da qualche parte ragazzi E' lì Ok c'è sempre questo qua Con Il blaster Che mi rompe abbastanza le scatole Questa specie di bazooka Ok andiamo veloci di qua Seguo il mio compagno di squadra Là davanti Dov'è 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 Ah lì sotto Ce ne due Eh non potevo far più niente ragazzi Ce ne erano due lì sotto Però non li ho visti Ok Vi devo dire la verità Col cecchino non è che sono un fenomeno Non gioco mai Praticamente Eccolo Eh non me ne sono accorto Che era a destra Però caspita E' arrivato da destra A tutta velocità Niente ragazzi La portano a casa loro Non ho più tempo Per fare nessuna uccisione Va bene E' andata così Pazienza E' andata così Un'altra sconfitta Però l'importante Non è vincere o perdere Oggi E' splattare i miei avversari Ok Non importa Vediamo quanti ne ho presi Uno Uno solo Peccato Pensavo di fare meglio Però in questa sfida Ne ho preso uno solo Eh ma ragazzi Considerate che io gioco sempre Col marker Comunque non sono abituato Al cecchino Va bene Passiamo alla prossima Ed ultima partita di oggi Per completare questa sfida Che mi ha proposto MorteYT Ok ragazzi Torniamo subito Nel portopolpo Per l'ultima partita di oggi Cerchiamo di splattare Qualche persona in più Magari in questa partita Ok Veloci come il vento Veloci come il vento Perfetto Io faccio strada Al mio compagno di squadra Eccolo Ok mi sa che si sono splattati A vicenda Poi non ho capito Come ho fatto a morire Ah ci ha splattati Tutti e due probabilmente O mi ha lanciato Una bomba a ricerca Non lo so Forse mi ha preso Con la bomba a ricerca Ragazzi Che non ho visto Arrivare Va bene Va bene Va bene Torniamo in questa zona Di qua Caspita lui Alla bolla Alla bolla E buonanotte ragazzi Quando hanno la bolla Così non si può fare niente Ok L'hanno comunque ucciso Stanno sempre attaccando Sulla sinistra Ok Non li vedo Non li vedo ragazzi Non li vedo Dove caspita sono Ah L'è in cima L'è in cima Eccolo 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 Via 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 E mi hanno chiuso In una forbice Però Sono riuscito A sopravvivere Ragazzi Sono riuscito A sopravvivere Ok Sto aspettando Che arrivino Sono tutti là in fondo Però che stanno combattendo Sono tutti là in fondo Ok Non riesco a prendere nessuno Non riesco a prendere nessuno Purtroppo mi manca un po' Di mira Pensare che ho modificato anche La sensibilità ragazzi Del Cusso Via Ok Facciamo il giro di qua No Caspita Ok Ok no Di qua no Forse ce n'è uno lì Eccolo Ok Sono rimasto Ucciso Malissimo Non so come ha fatto Probabilmente Stava laggando Leggermente Niente Sta partita qua Forse questa qua Ragazzi È la partita peggiore Delle tre Ok Oh che colpo Non si era accorto Che ero alle sue spalle Eh stavolta mi hanno visto Mi hanno visto Come Ah ok L'ho preso Perfetto L'ho preso Che caspita Mi ha Splattato Ah ok È laggato Proprio leggermente Laggato In teoria Siamo morti entrambi Insieme Però I server Hanno deciso Di laggare Leggermente Ok Qua niente So che sono qua Comunque Ok Quello lì Non l'ho preso io Però purtroppo Alle spalle Alle spalle Non mi raccordo Che si era Posizionato Le mie spalle Ok Allora Riposizioniamoci Di là Ok Passiamo Di qua Dove ho tirato Questa striscia Guardate Ricoloriamo Tutta la zona Qua E Sanno che Voglio posizionarmi Lì E Hanno capito Che volevo Posizionarmi Lì Ragazzi Ok Partita Terminata Mi stavo Preparando Un attimo L'angolino Per posizionarmi Ma Sono riusciti A terminare La partita Un'altra Sconfitta Sì Un'altra Sconfitta Purtroppo Però Comunque Almeno Due Sono riuscito A prenderli Gran colpo Veramente Un gran colpo Sono morto Sei volte Però ne ho Splattati Due Va bene Così Ragazzi Va bene Così Perdiamo Altri punti Nel rango C Ma non Importa Ok Soldi E punti Esperienza Caricati Adesso Ragazzi Direi Di tornare Nel menu Principale Per i saluti Finali Ok Ragazzi Eccoci Tornati Qua Nella piazza Centrale Di Coloropoli Per i saluti Finali Gran bella Sfida Morte Yt Che mi hai Proposto Io ho cercato Ragazzi Di fare Del mio Meglio Considerate Che non Sono Un cecchino Professionista E di solito Utilizzo Tantissimo Il marker Quindi Mi piace Avere Un fucile Con una buona Cadenza Di fuoco In modo Da poter Splattare Velocemente I miei nemici E Mi piacciono Diciamo Gli attacchi Frontali Non quelli Stealth Comunque Ragazzi Io ho cercato Di portarla A termine Nel migliore Dei modi Questa sfida Nel prossimo episodio Ne farò Naturalmente Un'altra Ne ho tantissime Da completare Ragazzi Come vi ho detto All'inizio del video Ne farò Due A settimana Di episodi Di questa serie Perché purtroppo Di più Non riesco Se no Dovrei togliere Spazio alle altre serie E non mi sembra giusto Come sempre Ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel Mi piace Fatemi sapere Nei commenti Quale lato Sceglierete Nel prossimo Splat Festival Se lato Chaos O lato Ordine Commentate Qui sotto Condividete Questo video Iscrivetevi Al canale Se non L'avete Ancora Fatto E ci vediamo In un prossimo Episodio Sempre qui Sulla Splatoon Challenge Alla prossima Ragazzi E ci vediamo